Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna stampa di oggi martedì 6 giugno 2017 siamo in diretta alle 7.30 e c'è la prima edizione allora cominciamo dal santo di oggi vediamolo subito con la grafica oggi è San Norberto il sole è sorto alle 5.29 e tramonterà alle 20.42 il cielo sarà per oggi parzialmente nuvoloso avremo nelle ore centrali della giornata rovesci o temporali sparsi più probabili nel settore costiero e primo collinare i fenomeni saranno in esaurimento nel corso del pomeriggio le temperature sono senza variazioni di rilievo i venti sono moderati il mare poco mosso mentre sarà mosso nel pomeriggio mercoledì 7 giugno domani ancora cielo irregolarmente nuvoloso soprattutto nelle zone interne dove non si escludono possibili deboli isolati piovaschi soprattutto al mattino le temperature sono in lieve diminuzione domani ci saranno venti di brezza attesa mentre il mare sarà poco mosso durante la nottata giovedì 8 giugno giovedì ancora tempo perturbato con nuvolosità nelle prime ore della giornata in particolare sulla provincia di Pesaro e Urbino sereno o poco nuvoloso comunque già dalla mattinata rovescio temporali sparsi nel settore settentrionale al mattino presto con fenomeni che si andranno ad esaurire nel corso della mattinata di giovedì le temperature sono in lieve diminuzione i venti nord orientali il mare sarà mosso con moto ondoso in diminuzione nel pomeriggio condizioni di tempo stabile soleggiato invece per il fine settimana la cronaca ci porta di nuovo alla Profilglas l'azienda fanese che si trova a Bellocchi di Fano dove nel giro di pochi mesi purtroppo sono morti due operai l'ultimo in ordine di tempo ieri un operaio che è rimasto schiacciato da alcuni bancali che gli sono caduti addosso la pagina del resto del carino di Fano la vedete operaio muore schiacciato dai bancali incidente alla Profilglas la vittima Rodolfo Cangiotti ci lavorava da oltre 25 anni voleva riequilibrare il peso del carico sul muletto quando questo gli è rovinato addosso l'azienda che occupa circa 800 persone nella lavorazione dell'alluminio ha reso noto che la famiglia Paci si stringe al dolore dei parenti dello sfortunato collaboratore chi era? chi era questa persona? da tutti conosciuto a Rodolfo Cangiotti gli piaceva imitare Renato Zero secondo incidente mortale scrive il Carlino in tre mesi a marzo infatti aveva perso la vita cadendo da un'altezza di 12 metri Morris Furlani, quarantenne, sempre di Sant'Orso Mecozzi Mecozzi l'omeopata per noi è molto più di un medico l'uomo è stato convocato oggi dall'ordine dei medici i suoi pazienti lo dipingono come una guida per tutti o comunque in rappresentanza di scrive lei centinaia di pazienti scrive Silvia Bartoli dice Mecozzi non è solo un medico ma è molto di più lui non ti cura e basta lui si prende cura di te ci fidiamo ciecamente di lui poi dice Mecozzi ci ha curati tutti come un padre e ancora tutto questo non si può capire se non avete conosciuto Mecozzi solo chi lo conosce può capire lui ci indica la strada ci educa come genitore ci fidiamo di lui insomma una lettera che questa Bartoli ha inviato scrive il resto del Carlino con toni mistici lo ricordiamo che Massimiliano Mecozzi che è indagato per la morte del piccolo Francesco Bonifazi il vivo di 7 anni deceduto per un'otite degenerata in encefalite dopo una terapia esclusiva a base di rimedi omeopatici ha un trascorso come membro dell'associazione religiosa Roveto Ardente con evidenti richiami al misticismo religioso sotto invece sempre sul resto del Carlino il prefetto Visconti che per diversi anni per quattro anni dal 2010 al 2014 ha retto la prefettura di Piso Urbino adesso si trova a Pisa è prefetto di Pisa dopo la partita della Juventus ha scritto un post sulla sua pagina di Facebook un po' come fosse un finto dispaccio per sfottere i tifosi juventini addolorati per la perdita per la sconfitta della loro squadra del cuore ebbene adesso per questa cosa insomma è un po' finito nei guai il post è stato subito cancellato lui ha chiesto scusa lo Chalet del Mar siamo a Fano lo Chalet del Mar non si balla la telenovela continua nuove prescrizioni per questo locale che si trova all'Arzilla di Fano in Riva al Mare e dovrà chiedere in affitto anche la spiaggia libera la commissione controllerà di nuovo tutta l'area giovedì prossimo ma per la discoteca l'accesso sarà soltanto per 200 persone adesso vedrà ci saranno i bagarini probabilmente quelli che quando c'è la limitazione c'è sempre qualcuno che si inventa qualcosa per entrare allo Chalet comunque questione di bagni l'Asur ha chiesto nuovi bagni dentro il locale quelli chimici serviranno invece successivamente ma c'è la Conf Commercio con il suo responsabile locale Francesco Mezzotero che dice così fate gli ingordi i bagnini sono ingordi vogliono sempre di più hanno le spiagge commenta il direttore di Conf Commercio hanno i bar i ristoranti e adesso vogliono anche la discoteca e Mezzotero dice mi sembra un po' eccessivo il racconto a proposito di Juventus Real il racconto di un fanese che è tra i 1500 feriti di piazza San Carlo a Torino che se l'è vista davvero brutta lui è Luca Cattarossi vent'anni tifoso bianconero studente di ingegneria al Politecnico al primo anno e racconta in questa intervista al resto di Carlino insomma se l'è vista grossa e dice sanguinavo ero nel panico non so come ho fatto a correre con quella caviglia e comunque si è tagliato con dei vetri in piazza San Carlo la mia famiglia stava cenando lì vicino li ho chiamati e mi hanno portato in ospedale mia zia dice ancora è avvocato stiamo pensando se chiedere il risarcimento d'anni a Piobbico invece sempre il pesarese rubate le affettatrici della Proloco lo straniero ha fatto razzia i carabinieri hanno trovato tutta la rifurtiva nel furgone di un extracomunitario lo straniero ha fatto razzia anche di tutto il pentolame insomma si vede che aveva bisogno di pentole e si è andato a rubare dentro la Proloco invece a Cagli Salvatore Borsellino dice mio fratello Paolo fu lasciato solo c'è stato questo commovente incontro sulla legalità a Cagli con gli studenti dell'Istituto Superiore Celli la pagina di Urbino invece adesso il canino andiamola a vedere attenti va a fuoco il Palazzo Ducale si scopre invece che era un gioco di luci lunghi controlli e difficoltà a capire subito il fenomeno il resto del canino pubblica la vedete qua questa fotografia cerchiato in bianco adesso io ci ho messo il colore verde ma insomma c'è questo gioco di luce che effettivamente da lontano sembra che sia una fiamma sembra che ci sia un bagliore causato dalle fiamme poi di notte insomma le cose si complicano un pochettino comunque due ore di ricerche questo è il risultato mobilitati in mezzi autoscali ispezioni sui tetti e un mistero che appare sempre più fitto la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico lo chalet del Mar fumata grigia autorizzazione solo per 200 persone decisione rinviata al sopralluogo di giovedì stop al popolo della Movida serve un'altra istanza l'intrattenimento danzante dunque limitato alla capienza degli spazi di competenza del locale e dunque non più di 200 persone ma guardate questa fotografia sono dei ciclisti in realtà 40 se vogliamo essere precisi 40 ciclisti dell'associazione amici della bicicletta FIAB di Siena che sono partiti da Roma per fare tappa a Fano tra sabato e domenica che quando sono arrivati sul ponte del Lido sono dovuti scendere tutti precisi bravi a piedi perché? perché lo ricordiamo a tutti sul ponte il transito ai ciclisti è vietato interdetto mentre invece è completamente libero sul lungomare Simonetti quindi sul Lido dove invece da tanto tempo si reclama una pista ciclabile affinché chi procede sulle due ruote in bicicletta dunque non vada a zizzag con il pericolo anche di investire qualche bambino che esce correndo dalla spiaggia la cronaca schiacciato da due metri di lana di roccia muore il magazziniere della Profilglas era appena sceso dal muletto quando il bancale gli è crollato addosso il 118 cerca di rianimarlo per 50 minuti però purtroppo non c'è stato niente da fare è successo ieri poco dopo le 14 Rodolfo Cangiotti 49 anni purtroppo questo voluminoso carico che si è riversato su di lui non gli ha lasciato scampo inutile l'intervento anche dell'eliambulanza sgomento tra gli operai tre mesi fa lo ricorda anche il Corriere Adriatico c'è stata un'altra vittima chi era Rodolfo Cangiotti lascia moglie e figlio imitava Renato Zero lascia la moglie Katia il figlio 17enne Alessandro ai quali naturalmente anche noi facciamo le condoglianze abitava con la sua famiglia nel quartiere di Sant'Orso in un condominio ridosso delle scuole alimentari Filippo Montesi la cronaca da Pesaro invece un ubriaco il rompe in casa dell'ex moglie tutto iniziato intorno alle 21 quando l'uomo separato circa da 5 mesi dalla moglie anche lei moldava di 26 anni si è presentato a casa per trascorrere del tempo con la bambina ma quando la donna ha visto che il marito era praticamente ubriaco gli ha detto ciccio tu stai là non ti muovere visto come stai messo io non ti do la bambina la bambina sta con me lui è andato su tutte le furie e per sfuggirgli si è rinchiusa nell'appartamento con la figlioletta la notte precedente racconta il corriere adriatico Luigi Benelli questa mattina la notte precedente c'è stato un episodio analogo anche a Fano tutti d'accordo invece per invitare la paladina delle iraniane quella ragazza che l'altro giorno al palazzetto dello sporto dove c'era la world league di pallavolo ha esposto questo striscione chiedendo in inglese di concedere la possibilità alle donne iraniane di entrare negli stadi voi sapete che è vietato questa donna ha 42 anni esula in Belgio è un attivista che si batte per i diritti delle donne iraniane e ha fondato nel 2014 l'associazione appunto che si chiama lasciate entrare le donne iraniane negli stadi si chiama proprio così dopo le polemiche dopo le polemiche che sono venute fuori l'altro giorno quando la polizia italiana è entrata al palazzetto e l'ha prelevata impedendole di far vedere questo striscione da quel momento sono un po' sono un po' scattate le polemiche scoppiate le polemiche e quella fotografia quelle immagini hanno fatto un po' il giro del mondo andiamo invece adesso sulla pagina della Valle del Cesano c'è la famosa truffa dello specchietto lo sapete come funziona non stiamo qui a ripeterlo per fortuna è talmente ormai vecchio come il cucco questo trucco che la gente non ci cade quasi più e così è successo anche l'altro giorno dove quest'uomo un moratore in pensione padre di due figli stava percorrendo intorno a mezzogiorno la strada pergolese in direzione Marotta di Marotta quando appena passato il semaforo di Centocroci ha visto un'auto ferma sul ciglio della strada lo stavo dice lui passando quando ho sentito sulla fiancata il rumore di una botta pum dentro di me ho pensato immediatamente che poteva essere di nuovo la truffa dello specchietto e infatti così è stato quindi questo qui poi come succede di solito si avvicina vi fa vedere lo specchietto rotto vi fa credere che voi l'avete toccato voi cadete chiaramente dalle nuvole perché vi sembra talmente strano e paradossale che non può essere vero però poi dopo c'è chi ci casca e c'è chi invece come è successo l'altro giorno ha detto aspetta aspetta adesso chiamiamo i carabinieri quando ha sentito la parola carabinieri questo è preso ed è scappato andiamo sulla pagina di Urbino velocemente per tre giorni Urbino sarà la città tutta da sfogliare dal 9 all'11 luglio la rassegna giugno la rassegna sui libri in arrivo autori ed editori da tutta Italia da Senigallia invece più corse e tessere gratis al mare ora si va anche in autobus raddoppiati i passaggi tra il centro e la spiaggia linea speciale Iesi Senigallia e poi l'ultima pagina è per lo sport e per ricordarvi che inizia questa finale under 18 di pallavolo ci sono anche due squadre marchigiane Isafano e Lube a caccia dello scudetto under 18 al via 28 squadre da tutta Italia la prima fase si giocherà anche a Pesaro e Lucrezia ma insomma il più sarà nella città di Fano seguiremo naturalmente come Fano TV essendo media partner questo 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 avvenimento sportivo con la pallavolo noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale arrivederci a presto